Ciao a tutte ragazze, in occasione dell'uscita del film 50 sfumature di grigio che immagino tutte starete aspettando, ho deciso di creare un outfit a tema 50 sfumature di grigio, però in senso letterale, quindi vi mostrerò questo outfit che tra l'altro a me piace tantissimo che lo uso veramente molto spesso e spero che vi piaccia, lasciatevi un commento, condividete il video, lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, se questo outfit vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!